Lo spammer. Una figura molto comune nelle modalità online, in particolare dei picchiadure degli sparatutto. Lo spammer esegue sempre la stessa mossa o serie di mosse per vincere con facilità. Ma... è possibile spammare in Smash? Beh, sì, ma a differenza di altri giochi, di solito non porta a niente. Ehm... giusto? 3, 2, 1... via! Ehm... giusto? Ehm... giusto? Ehm... giusto? Ehm... giusto? Ehm... giusto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, calma. Ora lo sistemiamo per bene. 3, 2, 1, via! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.